Per un periodo della stagione si è anche ben comportato, poi ha capito che aveva poco spazio in questo roster, ha inventato un infortunio e adesso è qua però per festeggiare in pole position. Una bella stagione, peccato per il crociato però, non ci sono rimpianti, l'importante è vincere, il merito è sempre di tutti. Certo, ma sinceramente poi l'hanno detto anche i tuoi compagni, questo è un roster che si è basato alla base proprio su quello che è il grande senso dell'amicizia, della collaborazione e si vince e si perde sempre tutti insieme. Però vogliamo dirglielo, tanto noi pubblichiamo tutto sul web, come ti chiami perché questo è un altro di quelli... Mirco Pilo. Mirco Pilo, Mirco Pilo, ah sì, ho capito. Devi parlare tu, non ti chiedo più niente. Cosa ti devo dire, siamo contenti per questa vittoria, ci tenevamo dopo essere saliti dall'anno scorso dalla C2 alla C1, vincere due anni di fila non è mai facile, anche con squadre forti poi sul campo e i playoff sono tutta un'altra storia. Ci sono state squadre che molto forti poi non hanno centrato la promozione, noi ci siamo riusciti. Ciao Mirco.